Procedure sb... Cov'è? Stai qui ELEMENTO SCP-008 Perché il riso adesso? Perché il riso è buono, va bene No In realtà sto pensando a quel verso che hai fatto nell'ultimo video di Bloopers Quello Perché? Perché il Dio esiste? I campioni DSG I campioni Pai Misura di incenerimento e di radiazioni Sì, di radiazioni, cerno, Bill Ciao a tutti ragazzi E ho fatto la intro, maledizione E un prione complesso I cui campioni sono immagannizzati IMAGANNIZZATI IMAGANNIZZATI Che cosa ridi? È giusto IMAGANNIZZATI 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 No, adesso sto urlando Devo placare la mia ira Allora Per neutralizzare soggetti completamente infetti È necessario infliggere un significativo trauma Traumatranico Oh, è mai possibile Bella Ahahahah 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 Ahahahah